Il ministro dell'istruzione e del merito Giuseppe Valditara ha fatto tappa a Teramo e provincia. Come primo appuntamento il ministro si è recato a Teramo accompagnato dall'assessore della regione Abruzzo Quaresimale nel convitto nazionale Melchiorre Delfico dove ha incontrato i rappresentanti dell'ufficio scolastico regionale e provinciale e i dirigenti scolastici della provincia di Teramo. Dopo Teramo il ministro si è recato a Civitella del Tronto e a Campri dove ha visitato gli istituti comprensivi. Nel suo intervento Valditara ha voluto specificare il grande sforzo fatto dal governo per questa regione. Per la scuola abruzzese abbiamo investito risorse veramente importanti e significative, anzi vi do i dati in diretta così da essere più preciso oltre 321 milioni di euro per l'edilizia scolastica, soltanto sulla messa in sicurezza qualcosa come 46 milioni e mezzo di euro. Sulle nuove palestre ho voluto esplicitamente per le scuole di mezzogiorno, tra cui anche l'Abruzzo, un investimento particolare oltre i fondi PNRR, qualcosa come 13 milioni e mezzo circa. sugli asili nido quasi 206 milioni di euro, sulle mense scolastiche anche qui con finanziamenti extra 21 milioni e mezzo circa e sul discorso delle scuole nuove qualcosa come 34, 33, 895 milioni di euro. Poi l'Abruzzo è stato coinvolto anche in Agenda Sud, un piano strategico, è la prima volta che un governo pensa ad un piano strategico per lo sviluppo del sistema formativo del mezzogiorno, proprio per riunire l'Italia. Io ci tengo molto a sottolineare questo aspetto. Il ministro ha anche parlato del lavoro che si sta facendo per il rilancio delle aree interne passando per la scuola, ma ha voluto anche sottolineare le potenzialità della nostra regione. L'Abruzzo è una regione straordinaria, una regione che ha grandi opportunità, grandi potenzialità e noi vogliamo investire proprio nel percorso della formazione tecnologica perché dà le basi, dà le fondamenta per lo sviluppo imprenditoriale, industriale, ma più in generale imprenditoriale di una regione. Valditar ha anche risposto alle critiche mosse dalla CGL provinciale sul fronte della carenza di organico. Abbiamo trovato le risorse per far sì che il personale ATA possa essere, ovviamente nell'autonomia delle scuole e coerentemente con l'esistenza di progetti PNRR, possa essere rinnovato e inoltre devo anche aggiungere un dato che tocca in modo particolare le scuole del mezzogiorno. Nonostante una diminuzione quest'anno di 115.000 studenti, ho deciso che ci sarà un'invarianza di organico. Questo vorrebbe dire salvaguardare 8.300 classi. 8.300 classi è un dato particolarmente importante e particolarmente significativo. Io credo che noi non dobbiamo avere alcun timore perché la scuola è un presidio importante e sulla scuola oggi c'è Agenda Sud che riunisce l'Italia.